Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it continua il corso di montaggio video con Adobe Premiere ed oggi vedremo altre due funzioni utili per ogni montatore soprattutto per chi lavora con Adobe Premiere perché oggi vedremo come funzionano le funzioni imposta a dimensione fotogramma e la funzione ridimensiona a dimensione fotogramma sono due funzioni molto simili tant'è vero che spesso vengono scambiate, vengono utilizzate l'una piuttosto che l'altra ma in realtà l'algoritmo dietro a queste due funzioni le rende molto diverse tra di loro e occorre prestare molta attenzione quando si sceglie se applicare l'una piuttosto che l'altra vi ricordo però prima il mio sito internet www.fabioambrosi.it sito dove troverete l'elenco di tutti i tutorial di questo corso di montaggio video con Adobe Premiere quindi guardate anche i vecchi video se volete approfondire qualche aspetto in particolare se non avete mai messo mano su Premiere vi consiglio chiaramente e caldamente di partire dalla lezione numero 1 perché siamo partiti da che cos'è un video ed oggi stiamo parlando di come ridimensionare un frame ecco è importante conoscere le basi per poter poi andare avanti con i concetti un pochettino più avanzati iscrivetevi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere anche i prossimi tutorial nei prossimi mesi ho intenzione anche di parlare di audition, di after effect, di photoshop visto che molte persone mi domandano corsi, informazioni, tutorial anche su questi software più avanti parleremo di tutto ma noi adesso ci fermiamo e andiamo avanti con il corso di Adobe Premiere e la lezione di oggi eccoci qui siamo in Adobe Premiere ho già preso una fotografia una fotografia che se guardata bene è una fotografia molto grande 5143 pixel per 2893 pixel creiamo subito una sequenza perché come abbiamo detto nelle prime lezioni per creare una sequenza è sbagliato fare questo lavoro ok? trascinare la clip video o l'immagine dentro allo spazio della sequenza quando non c'è una sequenza è sempre sconsigliato anche se funziona, per carità, funziona benissimo ma non lo fate preferibile fare CTRL N ne abbiamo già parlato scegliere, io preferisco scegliere, sono abituato a scegliere xdcam e x 1080p ok? vado avanti piuttosto veloce creo una sequenza e inserisco dentro questa bella fotografia olè subito ecco accade qualcosa e i più attenti di voi coloro che hanno già seguito tutto questo corso avranno anche forse capito cosa è successo l'immagine, la fotografia che io ho importato dentro a questa sequenza è molto 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 più grande rispetto alla sequenza stessa quindi al frame della sequenza vedete questa è la fotografia che io ho importato dentro la sequenza e questo è invece il frame della sequenza ecco in passato qualche lezione fa vi ho detto che in questi casi è possibile prendere queste maniglie e andare a ridimensionare la fotografia a mano oppure giocare con il parametro scala dentro al pannello controllo effetti però chiaramente io vi ho detto anche un'altra cosa molto importante che quando si monta un video occorre essere precisi e veloci e questo modo di fare non è né preciso e né veloce perché sì ok più o meno l'abbiamo fatta l'abbiamo trasformata ecco alle dimensioni del fotogramma ma insomma preciso preciso non sono stato e poi via ci ho messo molto tempo sicuramente molto più tempo che se avessi usato la funzione imposta a dimensione fotogramma a cosa serve questa funzione? dunque intanto ripristiniamo il valore della scala al valore di default che è 100 ok guardate bene questo parametro è 100% la dimensione originale se io vado ad applicare la funzione imposta a dimensione fotogramma e per farlo seleziono la clip che voglio ridimensionare clicco con il tasto destro del mouse e scelgo nel menu contestuale che viene aperto la voce imposta a dimensione fotogramma qua Premiere fa tutto il lavoro sporco al posto mio ed è molto preciso ed è molto veloce e guardate questo parametro non è più 100% ma Premiere lo ha scalato trasformandolo a 37,3% e come dicevo bisogna essere precisi e veloci e Premiere ha già fatto questo lavoro al posto mio quindi ribadisco, ripeto seleziono la clip tasto destro imposta a dimensione fotogramma e il gioco è fatto c'è un'altra funzione un altro strumento che sarebbe possibile utilizzare e se voi cliccate con il tasto destro del mouse sopra questa fotografia e guardate subito sopra a imposta su dimensione fotogramma trovate ridimensiona a dimensione fotogramma proviamo a cliccare e vediamo cosa accade accade più o meno la stessa cosa perché Premiere in un colpo solo mi ha ridimensionato la fotografia rendendomela della stessa risoluzione del mio frame della mia sequenza ma guardate qui guardate nel pannello controllo effetti guardate il parametro scala non è mica 37,3 come avevamo visto prima ma è rimasto invariato al 100% eppure questa fotografia è stata ridimensionata cosa vuol dire? che se io adesso volessi ripristinare questa fotografia al suo valore di default chiaramente 100% è già il valore di default qualcosa è successo beh la risposta è semplice Premiere quando scegliete la funzione ridimensiona dimensione fotogramma non fa altro che ricalcolare i pixel dell'immagine in qualche modo trasforma questa stessa immagine rendendola della stessa risoluzione della mia sequenza ma attenzione questo procedimento è un procedimento distruttivo cosa vuol dire distruttivo? che se io adesso tentassi più o meno di ingradire questa fotografia per renderla grande come era originariamente vado sicuramente a perdere qualità vi ricordate qualche lezione fa parlando della scala della rotazione della posizione ho detto che la scala non deve mai andare oltre il 150% altrimenti iniziano a vedersi artefatti ecco appunto noi qui siamo andati ben oltre il 150% e sicuramente questo modo di fare è da evitare quindi ricapitolando la differenza tra imposta dimensioni in fotogramma e ridimensiona dimensioni in fotogramma la prima non fa altro che sostanzialmente ridimensionare rimpicciolire scalare forse la parola giusta è scalare ok l'immagine aspettate che ok dicevo scalare l'immagine alla dimensione del fotogramma agendo sul valore scala ok l'altra funzione ridimensiona dimensioni in fotogramma non fa altro invece che computare i pixel di questa immagine adattandola a questo fotogramma ma sostanzialmente distruggendo le informazioni che erano presenti al suo interno ok quindi se volessi tornare indietro lo posso fare ma perdo informazioni perdo qualità quale di queste due funzioni bisogna utilizzare ecco non esiste mai 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 una regola definitiva molto dipende da quello che dovete fare molto dipende dalla vostra esperienza è chiaro che se dovete semplicemente ridimensionare al volo una fotografia è inutile che pensiate troppo l'una vale l'altra però se vi viene anche solo il dubbio che questa ecco un'altra cosa che non ho detto è chiaramente che ridimensionare a dimensioni in fotogramma può essere annullata perché basta ricliccare sopra ridimensionare a dimensioni in fotogramma e chiaramente torniamo al valore iniziale ma non è successo niente lato pannello di controllo dicevo mentre la versione ridimensionare a dimensioni in fotogramma appunto distrugge le informazioni quindi prestate attenzione a quello che fate come avete appena visto è possibile tornare indietro ma chiaramente dovete disabilitare la funzione ridimensionare a dimensioni in fotogramma molto simili molto simili queste funzioni ma come avete visto l'algoritmo è molto diverso quindi l'importante è avere consapevolezza di quello che voi state facendo nella prossima lezione nel prossimo video tutorial parleremo del match frame il match frame è fondamentale quando si lavora in premiere ma anche in avid o in qualunque software di montaggio il match frame è una di quelle funzioni che esiste sempre perché qualunque montatore prima o poi lo deve utilizzare ne parleremo nel prossimo tutorial per oggi è tutto vi ricordo www.fabioambrosi.it è il sito dove trovate l'articolo di questa lezione tutte le lezioni del corso di montaggio video l'indice con le lezioni fatte e quelle che faremo e chiaramente iscrivetevi iscrivetevi a questo canale youtube condividete questi video mettete un like e grazie ancora ci vediamo al prossimo tutorial ciao